Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, primo maggio. Non facciamoci, almeno tra di noi che la pensiamo, e spero nello stesso modo, gli auguri di primo maggio. Sono quasi peggio di quelli degli auguri del 25 aprile. Facciamoci gli auguri quando c'è il compleanno. Rifacciamoci gli auguri quando ci sono i santi, come facciamo noi meridionali, no? San Nicola, il 6 dicembre. Facciamoci gli auguri, insomma, quando vale la pena. Natale, Pasqua, anzi se a Pasqua non si fanno più perché non c'è manco la Messa. Insomma, l'augurio, buon primo maggio, mi sembra la cosa più ridicola del mondo, nel mondo in cui il primo maggio non si lavora tanto perché c'è una festa, ma non si lavora perché abbiamo chiuso praticamente metà delle nostre attività produttive. Fatta questa lunga e inutile premessa, forse per alcuni di voi, andiamo subito al dunque di quello che ho letto oggi sui giornali. Beh, insomma, sui giornali, vabbè, c'è qualcuno che ricorda cos'era il primo maggio, insomma, Molinari oggi ci vuole raccontare una cosa di New York, beato lui. Ma la cosa sostanziale è politica, perché ieri Conte ha fatto il suo solito inutile, ma ragazzi sono sempre qua con il petto di fuori, ieri Conte ha fatto la sua solita inutile discussione in Parlamento, posto che è meglio che discuta in Parlamento, perché non è che possiamo essere schizofrenici, cioè abbiamo detto fino a mo' che quello non si presenta mai in Parlamento e non c'è mai un voto parlamentare, poi quando si presenta in Parlamento siamo qua che ci lamentiamo. No, siamo qua che diciamo che il discorso è inutile, ma va benissimo che Conte si sia presentato in Parlamento, dove evidentemente Casalino dopo mesi e mesi lo ha convinto a portarselo lì per mano. Ma cosa è successo in Parlamento? Beh, che la vera opposizione di Conte, lo si capisce oggi da tutti i giornali, la fa uno dei partecipanti della sua maggioranza, Matteo Renzi, perché dice una cosa che secondo me è di tutta evidenza, e chi segue la zuppa l'ha sentita da me centinaia di volte, e sono contento che gliela dica Renzi, e cioè che loro hanno combattuto tanto, secondo me sbagliando, contro i pieni poteri che avrebbe dovuto assumere Salvini, mentre non dicono nulla dei pieni poteri che di fatto ha assunto oggi Conte. Questo è il succo della critica che ha fatto ieri Renzi in Parlamento a Conte, con un discorso durissimo, lo stesso che oggi fa dire al Corriere della Sera, l'unico che titola su questo, Conte sotto attacco in aula. Il che, voglio dire, non mi sembra una cosa sbagliata, perché l'aula serve esattamente a questo, cioè a criticare e a controllare il governo e l'esecutivo. Sono sintetizzate queste cose con la frase Renzi basta pieni poteri. Beh, poi c'è Franco. Dovete sapere che Franco è il giornalista più contiano che oggi ci sia, dopo Travaglio. Cioè lì in realtà loro si tengono per mano, non possono, si tengono a distanza di un metro solo perché c'è la distanza fisica, se no si terrebbero per mano Franco e Travaglio nel difendere il loro beniamino. In maniera un po' diversa, ovviamente, Travaglio nel modo, come sapete voi, conoscete voi, diciamo volgarissimo, e Franco nel modo democristiano e istituzionale. E oggi cosa scrive Franco in prima pagina sul giornale? Assedio a Conte! L'accerchiamento solitario della Lega, il pericoloso fai-da-te delle regioni di centrodestra e Italia dei valori, cioè Italia viva, cioè quella di Renzi, che gli minaccia la crisi. Allora, Franco parte da questo presupposto, che la Lega è sola nell'opposizione. Forse è sola, diciamo, nella sua occupazione dell'Aula, però, insomma, almeno la Meloni forse la aggiungerei alla Lega. Quindi è diviso centrodestra, perché questo tutti retroscena oggi lo dicono, compreso Ciriaco, su Repubblica, che ci spiega come in realtà ci sia una parte di Forza Italia che voglia fare questi geni da stampella Conte. Siccome i geni prima o poi li troveremo, questi geni, anche se non sono già andati con Conte, rappresentano la forza di Conte, perché Renzi sa che diventa irrilevante, come spiega Ciriaco, se fa l'opposizione a Conte, si sfila dal governo Conte e immediatamente arrivano questi fenomeni di Forza Italia che aiutano Conte. Questa sarebbe una genialata. Però l'altro aspetto di critica che dice Franco è quello delle regioni. Pericolosamente fai da te! Perfetto, perfetto che c'è Franco un altro, diciamo, della lista che, diciamo, come possiamo dire, dei fenomeni, no? Le regioni sono pericolosamente fai da te. Perché? Perché la Santelli, che è l'altra grande notizia di giornata, che poi è lei, è lei, non sono le regioni. Bonaccini da parte sua, le Marche da parte loro, cioè le regioni fai da te, insomma, non sono solo del centrodestra. Toc toc! Le Marche non è di centrodestra, l'Emilia non è di centrodestra, che mi sembra che abbiano obiettato alcune riaperture a Conte. Beh, comunque, andiamo su Iole Santelli. Beh, Iole Santelli, che cosa è successo? Ha detto semplicemente una cosa di una banalità estrema e di buon senso, di buon senso. E cioè, se i ristoranti e i bar possono essere utilizzati per l'asporto, se mettiamo quattro tavolini davanti, perché non possono prendere il caffè ai quattro tavolini? Questo forse il burocrati di Roma non lo capisce. Non lo capiscono a me neanche i sindici, per esempio quello di Catanzaro che ha detto una cosa che non si può fare. Quindi la Santelli lotta con le direttive di Conte. Nel frattempo i sindici contro le direttive della Santelli, di cui parleremo tra poco perché c'è un aspetto interessante. E quindi Franco dice che l'opposizione al Conte lo fanno le regioni di centrodestra non rendendosi conto a che le regioni sono anche di centrosinistra che obiettano al supremo sovrano intoccabile alcune delle sue inutili e assurde direttive. Non sapete che cosa succede quando si viene dall'estero, ma lasciamo perdere, ne parleremo di questo e di come, voglio dire, la poliazia ferroviaria deve eseguire le norme furibonde, assurde, pazzoide da comma 22 di questo governo. Ma l'altra cosa è che con la stessa logica di Franco se le regioni di centrodestra si oppongono a Conte ci sono i sindaci di centrodestra che si oppongono alle regioni di centrodestra. Ma sei impazzito? Cioè, vabbè, comunque, per mettere dentro il centrodestra e considerarlo sconclusionato pericolosamente fai da te delle regioni. Il giornale titola, secondo me, con il che raggruppa un pezzo che fece settimane fa cioè l'ennesimo penultimatum di Renzi perché non ci credono mai ai penultimatum di Renzi. Nel frattempo, se ce lo permette sempre Franco, che cosa succede? Ce lo permette anche il sindaco di Catanzaro che non è d'accordo con la presidente della regione Iole Santelli il decreto Speranza che è più che un invito e il decreto del ministro della salute purtroppo che è una specie di enclave di comunisti ma in serie insomma comunisti veri dice però che le regioni possono ridurre le limitazioni dal 18 maggio in base alle curve del contagio e il messaggero giustamente dice riapre chi può. Allora, ragazzi, che cosa è successo ieri? Ve lo voglio dire perché noi viviamo in questa cupa cupa vita di reclusi in cui ci vogliono far mettere paura io parlo con poliziotti dirigenti l'altro giorno con un banchiere importantissimo tutti che si cagano sotto così allora, io sono fortunato perché evidentemente essendoci passato ed essendoci guarito posso fare il fenomeno e non voglio fare il fenomeno però se uno guardasse i numeri e non si facesse e non fosse ancestralmente un cagasotto se uno guardasse i numeri saprebbe che il rischio di contrarre questa malattia in maniera grave avendo meno di 40 anni o meno di 50 anni e godendo di buona salute è pari praticamente a zero non a uno a zero va bene? però noi siamo tutti qua che ci caghiamo sotto giustamente però io questo tema ve lo voglio dire non non ne voglio parlare perché sembra che sia derivante soltanto della mia condizione fisica però voglio parlare voglio ritornare sempre a parlare del fatto che diciamo che questo clima è creato da un semplice motivo abbiamo quando il contagio era i massimi c'era la conferenza stampa alle 18 le curve dei morti 600 morti 800 morti la curva sale i contagi salgono bene ieri sapete che è successo? record di guariti 5000 e il numero più basso di positivi vi segnalo che poi l'analisi dei positivi conta nulla perché il positivo potrebbe semplicemente farlo come tante persone in maniera molto blanda come l'ho fatto io in maniera blanda o in maniera non grave quindi i positivi non vogliono dire nulla 1872 positivi perché al tampone paradossalmente possono essere positivi anche gli asintomatici va benissimo ieri c'è stato il record dei guariti il record dei positivi in basso e i giornali come Repubblica e come tutti gli altri la confinano a pagina 15 chiaro? pagina 15 stiamo distruggendo l'economia del mondo stiamo mettendo la paura a tutti gli italiani abbiamo la gente che fa lo sceriffo non hai messo la mascherina non l'hai messa bene come scriveva l'altro giorno pupo su Dago Spia che avrebbe voluto mandare affanculo detto quello che mi diceva non l'hai messa bene in realtà viviamo in un mondo in cui quando ti vedono per strada con la paura che ci hanno messo ti spareranno preferiranno spararti piuttosto che avvicinarsi se a te sei starnuti quanto è bella quella canzone che fa così all right all right l'avete mai visto il balletto all right all right io vi consiglio di guardarlo è stupendo ed è una specie di come possiamo di tormentone di tiktok fanno così all right e poi iniziano a ballare io non lo posso fare perché sarebbe ridicolo ma è stupendo altro che i giornali italiani che te lo mettono a 15 no questo è il nostro simbolo all right all right va bene non ce la facciamo sotto per uno starnuto anche perché poi le cose diventano grottesche come l'intervista della brava ministra De Micheli che mi sta anche molto simpatica quella che spero che rimetta a posto diciamo gli appalti pubblici ma mettiamola così che dice che le aziende di trasporto pubblico devono adottare la distanza fisica io non la chiamo sociale perché ha ragione professore ieri dell'avvenire è assurdo chiamarla sociale perché dà il senso della nostra morte la distanza fisica di un metro oggi poi leggo quello che dice la De Micheli con quello che declina il tempo giornale di Roma e sapete qual è la distanza fisica di un metro vuol dire 20 persone in un autobus ragazzi non ci prendiamo per i fondelli non ci prendiamo per i fondelli 20 persone in un autobus vuol dire che i trasporti pubblici non esistono più ma è chiaro cioè diciamo le cose come stanno mettiamo a pagina 15 il fatto che non ci sono che sta crollando la curva e mettiamo a pagina 1 queste milabolanti soluzioni sui trasporti pubblici che vuol dire non solo una cosa i trasporti pubblici sono morti perché questi sono trasporti privati perché 20 persone in un autobus di 40 metri quadri vuol dire che non ci sarà più trasporto pubblico chiamiamo le cose come si debbono quindi io non è che vi dico troviamo la mia soluzione andiamo nei trasporti pubblici come se fosse prima perché lo sapete come la penso io aspettiamo di vedere come vanno le cose e poi i trasporti pubblici se non vanno come prima che cosa succede? succede quello che oggi ha scritto l'economist perché ogni buon motivo per stare a casa ognuno ha un buon motivo il contagio il non contagio i trasporti pubblici come la scuola sono i due fattori di disuguaglianza maggiori io posso andare in ufficio con una bella Ferrari va bene? io posso andare con l'elicottero in ufficio io posso andare in vacanza con l'aereo privato magari tutte queste cose potessi fare però io che sono miliardario posso usare lo chauffeur mi metto dietro mi mettevo dietro anche prima mi metto la mascherina tutta quanta di Swarovski lo chauffeur si mette una mascherina della diesel di Renzo Rosso vado con questa bellissima Maserati una Cayenne una cafonata me ne vado me ne vado in ufficio e nel frattempo vedo le file distanziate a un metro degli autobus che da Cinisello o Balsamo vorrebbero arrivare in centro non ci prendiamo per i fondelli questa è una roba che se continuerà così farà peggio e lo dice un uomo di destra alle persone più deboli sulla scuola oggi l'Economist fa un pezzo dicendo guardate ragazzi tenere i ragazzi a casa per la scuola è una stupidaggine perché si contagiano di meno portano meno il virus e aumenta le disuguaglianze dei bambini e gli fa male la testa fa male ai ragazzi stare a scuola non stare a scuola ragazzi che poi adesso gli dovremmo spiegare che faranno l'estate distanziata noi stiamo distruggendo una generazione per una paura dei vecchi tromboni che invece di dire che diminuisce e creare di allentare anche il clima di paura lo alimentano perché potrebbe arrivare la seconda ondata il tempo di oggi è spaziale perché il tempo di oggi che cosa fa? va a controllare il cosiddetto H-index sapete che cosa è H-index? questo indice è gli scritti scientifici e le citazioni che hanno questi famosi scienziati cioè se io faccio un paper faccio un rapporto faccio una ricerca e poi questa ricerca viene ripresa da altre persone il mio indice sale ed è un indice internazionale va bene e sono andati a vedere le nostre star televisive Burioni Brusaferro Pregliasco i chiusuristi quelli che dicevano all'inizio che si doveva tenere tutto aperto e quello che oggi dicono che si deve tenere tutto chiuso ma nel frattempo si prendono le consulenze da Pellegrini Ferrari Gucci Fiat per fargli riaprire le aziende queste Burioni queste quattro consulenze le ha prese Burioni però quali sono a parte le sue comparsate televisive da Fazio i titoli per cui Burioni ha tutte queste consulenze penserate voi sarà uno che avrà questo indice di H indice fantastico è una pippa non è che questo indice sia indicativo della bontà o della pippaggine di una persona ma secondo questa classifica Brusaferro Burioni e Pregliasco sono ai livelli più bassi hanno 16-20 sono ai livelli più bassi perché hanno pubblicato meno di tutti e le loro citazioni inevitabilmente sono state inferiori a tutti quanti è straordinario il più alto in Italia sono due i più seri chiaramente Mantovani e Remuzzi che vi avevo citato ieri sul Corriere della Sera che dice dobbiamo riaprire e non ci inventiamo tutte queste paure Remuzzi sul Corriere della Sera oggi scopro sul tempo che è uno degli scienziati più citati e che ha fatto più studi di quelli che vanno in giro che non sanno bene che cosa dire ma hanno evidentemente questa faccetta televisiva nel frattempo non poteva mancare anche oggi il pezzo di Zagrebeschi quello che faceva la Costituzione contro Berlusconi avete presente il Costituzionalista Rosso ma il Costituzione Rista Rosso è anche il più ipocrita di tutti perché adesso che la Costituzione secondo praticamente moltissimi costituzionalisti è stata violata anche perché ci arriva un bambino diciamo che ha fatto proprio i primi esami di giurisprudenza perché lui dice oggi in un'intervista al fatto arrampicandosi sugli specchi beh il DPCM che sono atti amministrativi che hanno una forza per cui vi tengono a casa con i DPCM nascono da una delega che vi ha fatto un decreto quindi il governo che cosa ha fatto? ha fatto un decreto legge perché c'è l'urgenza e nel decreto legge per il quale c'è l'urgenza si rimandava a possibili atti di presenza del Consiglio per ridurre le nostre libertà diciamo così perché non ce l'ha scritto esattamente quindi noi abbiamo usato una decretazione d'urgenza che rimandava a una decretazione secondaria da parte di tipo amministrativo ma il punto sostanziale di Zagrebeschi è la sostanza e la ciccia questo ha fatto 11 DPCM 11 DPCM non si è fatto votare praticamente nulla in Parlamento e vedere Zagrebeschi che difende questo governo contro i Cassese altri migliaia di giuristi che spiegano che la nostra libertà individuale non può essere violata in questa maniera mi fa davvero sorridere ma Zagrebeschi è quella roba là è quello che se i pieni poteri li prende Renzi o Berlusconi o Salvini è un problema ma se li prende il suo amico Conte gli amici suoi del fatto va bene sul primo maggio voglio dire l'unica cosa positiva fatemela dire un commento che non ho trovato è che ci risparmiamo il concertone di Piazza San Giovanni e godo come un riccio il concertone oggi però non si è fatta mancare un'intervista come si chiama l'Ambra Angiolini che farà il concertone il concertone digitale nulla contro Ambra Angiolini se non sempre questa sottile ipocrisia di tutti questi artisti che passano a sgambettare secondo me in maniera straordinaria a non è la Rai e forse per difendersi da questa loro gioventù tutti noi abbiamo fatto cose straordinarie in gioventù ma diverse rispetto a quelle che facciamo oggi deve fare l'intellettuale questa cosa è insopportabile in questi qui però gli abbiamo tolto purtroppo dico io il concertone del primo maggio perché a me piacerebbe che ci fossero concerti che ci fosse tutto quello che c'è prima ma obiettivamente oggi non ci sono più il dato positivo è che ci siamo risparmiati quella specie di enorme colata di ipocrisia sul primo maggio perché oggi il primo maggio di quelli che non lavorano non lavorano come scrivono in tanti il pezzo migliore più intelligente oggi lo fa su Milano Finanza Guido Stazzi che ci racconta che succede chi veramente vince da questo primo maggio cioè le grandi società tecnologiche lasciate perdere Zoom My Google Microsoft Facebook Apple e compagnia cantante non so che mi sono dimenticato che saranno i veri vincitori che sono quelli che nella prossima generazione ma che vuol dire nei prossimi anni conquisteranno secondo Stazzi il mercato tra l'altro con l'accelerazione data da questa chiusura del Covid da questi lockdown che a loro non riguarda Fubini vi segnalo che prende in giro e di punta la Lagarde la presidente della Banca Centrale Europea oggi su Corriere della Sera perché dice ogni volta che parla ieri ha parlato per la seconda volta nell'ultimo mese i titoli italiani l'interesse si salgono perché ogni volta che parla al mercato questa forse per inesperienza o forse anche un po' per malvissuto insomma non rassicura i mercati sulla tenuta dell'Italia e questo è molto interessante il pezzo di Fubini così come la stretta osservazione e sorveglianza che dovrebbe nascere se si aderisce al MES titolo di ieri di Repubblica oggi viene smentito da Gentiloni che dice beh sì stretta sorveglianza però la stretta sorveglianza sentite bene non deve essere sull'economia italiana ma sul fatto che i soldi che ci dà il MES siano effettivamente spesi per questioni sanitarie vi fidate di Gentiloni? beh sì insomma se nel weekend si occupa anche di questo non sarebbe male che altro c'ho regioni ve ne ho parlato no della Iole e Sontelli soltanto l'unica cosa che vi dico è quanto gli sta sulle palle Repubblica che la Iole e Sontelli abbiano aperto i bar perché da una parte piagnucolano che i bar non lavorano cosa che io penso che i ristoranti non lavorano cosa che io penso poi se c'è un un presidente della regione che legittimamente dice se siete in grado aprite tutti contro il presidente della regione tutti contro il presidente della regione perché ovviamente è di centrodestra è sicuro che per questo Repubblica rivolta di sindaci e ristoratori Santelli isolata non serviremo caffè al veleno sapete che c'è di nuovo sindaci ristoratori baristi se veramente pensate che quello è caffè al veleno beh allora morite di affari vostri e non chiedete più un euro allo Stato perché se lo Stato vi permette di lavorare e voi non lavorate sono cazzi vostri io a voi non vi do un euro chiaro? io invece sto con quelle migliaia centinaia di migliaia di parrucchieri estetiste baristi ristoratori agenzie di viaggio promotori persone che lavorano fuori dagli stadi musicisti artisti agenzie di guida istruttori tennisti golfisti quello che cavolo volete che vorrebbero lavorare in sicurezza a parte questi quattro stronzi di baristi che dicono questa frase ignobile pubblicata da Repubblica non serviremo caffè al veleno bravi non servite il caffè al veleno ma io un euro col cavolo che ve lo do chiaro? perché io posso dare i soldi a quelli che sono stati chiusi per colpa dello Stato non a quelli che mi dicono una frase così orrenda sempre che Repubblica non abbia travisato questa grande rivolta di sindaci e baristi calabresi contro il decreto della Santelli cosa che poi alla fine io posso pensare questa sera ragazzi se tentate a sentirmi adesso ci sarà uno speciale di Matrix andrà prima in onda un film Contagium che vi fa fare così sotto una follia non è vero quello che succede in Contagium e poi dopo vedrete in studio come io cercherò di smontare come sempre avviene questa grande paura collettiva che noi stiamo mettendo negli italiani del virus che ci ha completamente paralizzato fa male ci sono morti e ci sono situazioni straordinarie ma da questo a chiudere l'Italia ce ne passa veramente un conte ciao ciao